Bentrovati in questa nuova puntata di Top Smartphone, la nostra rubrica che come tutti i mesi, ogni prima domenica del mese, vi dà i consigli per gli acquisti sui migliori smartphone Android. Guida giornata ogni mese, quindi se capitate su questo video non a dicembre 2019 ma nei mesi successivi, guardate in descrizione perché troverete le nuove puntate. Questa volta, questa domenica, capita proprio a metà tra il Black Friday e Cyber Monday. Il Black Friday ormai è terminato, invece domani ci sarà il Cyber Monday e quindi colgo l'occasione per ricordarvi di seguirci sui nostri soliti canali, specialmente il nostro canale Telegram dove troverete tutte le migliori offerte. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Detto ciò partiamo con la guida di questo mese dove ci sono stati diversi cambiamenti, devo dire, grazie a nuovi smartphone che sono arrivati. Al solito cominciamo dalla fascia sotto i 200€, nella scorsa puntata non avevo messo il Mi A3 in questa fascia, ma nella fascia superiore ed è scoppiata una polemica tra di voi che avete gridato alcuni, devo dire, per fortuna pochi, al grande scandalo, no? Ecco, Xiaomi non vi ha pagato abbastanza, a parte il fatto che è una polemica che veramente ha quasi stancato, no? Sono tutte storie, davvero, siamo nel 2019, quasi 20, quindi please. E semplicemente non avevo controllato bene il prezzo. Tutto qua, Mi A3 ve lo consiglio sotto i 200€. Android stock, Android puro, sempre aggiornato, prodotto che non ha un hardware fantastico, ma tutto sommato devo dire che gira molto bene, mi aveva soddisfatto molto nel momento in cui l'avevo provato. A salire troviamo una coppia, Redmi Note 7 o Redmi Note 8T, li metto insieme perché di fatto sono molto simili, io vi consiglio di prendere quello che vi permette di risparmiare anche 20-30€ perché sì, il Redmi Note 8T ha qualcosa in più, in particolare ha delle fotocamere in più, ma in generale l'esperienza di utilizzo è veramente quasi uguale e anzi, secondo me il Redmi Note 7 era anche un pochino più bellino esteticamente. Entrambi comunque due ottimi prodotti, certamente. Altrimenti se non volete andare su Xiaomi c'è il Samsung Galaxy A40, prodotto molto piccolino, simpatico, per questo lo inserisco perché secondo me piace a molti, non è un fulmine di guerra assolutamente, non ha un'autonomia strepitosa, però è molto compatto e in generale devo dire che ha tutte le caratteristiche tecniche che servono per funzionare bene. Il Realme 5 Pro lo metto qui tra gli outsider, perché? Perché non li abbiamo ancora provati, lui è l'X2, ce li abbiamo in prova, arriverà alla recensione questa settimana e vi anticipo che funzionano molto bene, quindi probabilmente entreranno direttamente nella nostra guida dal prossimo mese. Per il momento tra gli outsider, perché? Perché voglio essere coerente e metto solo i telefoni che abbiamo provato e di cui abbiamo fatto la recensione definitiva prima di entrare nella guida, ok? Saliamo di fascia di prezzo, tra i 200 e i 300 euro c'è il regno di Xiaomi, cominciamo dal Redmi Note 8 Pro, smartphone che si distingue per avere una super batteria da 4500 mAh, io ve lo consiglio se avete qualche spicciolo in più rispetto al Redmi Note 8T, perché effettivamente funziona un po' meglio, è un pochetto più veloce e soprattutto riesce a fare delle foto migliori. Così come il Trio, ormai li metto assieme perché sono tre telefoni che costano più o meno uguali, hanno sottili differenze, ma alla fine dovete scegliere quello che vi piace di più, un po' dal lato estetico, un po' in base alle caratteristiche. Allora il Mi 9 Lite e il Mi 9T sono due prodotti molto grandi, uno ha la fotocamera scomparsa, l'altro invece ha il notch, il Mi 9 Lite ha un pochetto più di batteria, un po' meno di performance e di fotocamera, il Mi 9T è quello un pochetto più completo ma costa anche un filo di più rispetto agli altri. Il Mi 9 SE, ottimo smartphone, ha tutto tondo ma è compatto e piccolo, ha un'autonomia decisamente inferiore, qui sta a voi quello che preferite. Altrimenti per non stare su Xiaomi avete il Samsung Galaxy M30s, l'ho provato di recente, per lui 6000 mAh di batteria, veramente un'autonomia pazzesca. Per questo smartphone secondo me è ben riuscito da parte di Samsung, non è anche lui un fulmine di guerra, però ha tutte le caratteristiche tecniche che servono per una buona esperienza d'uso quotidiana. Anche qui negli outsider ritroviamo un altro Realme, l'X2, come per il 5 Pro lo stiamo provando, gli altri outsider invece li conoscete benissimo. Avendo un budget un pochetto più alto troviamo LG G8S ThinQ che è cominciato a scendere sotto i 400€, 3,99€ ma si riesce a trovare anche a qualcosa in meno con alcune offerte, specialmente in questi giorni, magari anche sotto Natale. Quindi visto che questo è l'ultimo video dell'anno, del 2019 per top smartphone, ho preferito inserirlo in questa fascia di prezzo. Prodotto eccezionale, davvero molto completo, eccezionale soprattutto se acquistato a questo prezzo. Tenete conto che lui è in effetti il top di gamma di LG, a parte il V50 ma è uno smartphone 5G, per cui ha tutte quelle caratteristiche tipiche dei top di gamma. Ha costruito molto bene, è impermeabile, ha delle ottime fotocamere, un bel display, quel sistema un po' strano dello sblocco con riconoscimento delle vene, ma anche lo sblocco per esempio con riconoscimento del volto in 3D. Veramente un ottimo affare. Per stare più sul classico, un telefono più compatto, leggero, molto bello, fa delle super fotografie, Google Pixel 3a. Purtroppo non si riesce a trovare molto in giro se non sul Google Play Store, che è il device store, che è il posto in cui costa meno, 399€. Non è un ottimo rapporto qualità-prezzo, ve lo dico, perché comunque lui è uscito già con un hardware che non era al top e adesso sono passati alcuni mesi, però di fatto ha delle caratteristiche che lo rendono unico. Prima di tutto è già aggiornato da Android 10, riceverà ancora molti aggiornamenti, molto supportato da Google perché è direttamente prodotto da loro e in più è l'unico che vi dà veramente un'esperienza di Android al 100%, senza tanti fronzoli. Molto semplice ed immediata. Altrimenti perché no la coppia Xiaomi Mi 9 e Mi 9T Pro. Ormai questi Xiaomi li metto in coppia perché sono prodotti veramente molto simili, in cui cambiano poche cose. Tra il Mi 9 e il Mi 9T Pro passa veramente molto poco, hanno lo stesso processore, hanno una fotocamera a scomparsa, il Mi 9T Pro, l'altra invece ha la fotocamera col notch. Mi 9 ha un comparto fotografico un pochetto migliore sulla parte posteriore in termini qualitativi, perché in realtà poi gli obiettivi che ci sono sono gli stessi. Il Mi 9 ha anche la ricarica wireless. Il Mi 9T Pro però ha un'autonomia decisamente superiore, ma è anche più grosso e pesante. Insomma, vedete un po' anche in questo caso quello che vi attira di più, ma sono equivalenti come esperienza d'uso. Allora, in questa fascia mettere degli outsider è complicato perché molto spesso vengono fatte delle grandi offerte o sui prodotti di fascia inferiore, ma con tagli di memoria molto ampi, oppure sui prodotti di fascia superiore particolarmente scontati. Mi viene in mente Samsung Galaxy S10e, che è un telefono da prendere in considerazione che normalmente costa più di 400€, ma ultimamente si riesce a trovare in offerta anche a 399€. Quindi capite bene che insomma qui tra i 300 e i 500€ c'è un po' di rimescolamento veramente che dipende dalle offerte. Tenete d'occhio quindi il mio consiglio se volete spendere, andare a prendere un telefono in questa fascia di prezzo, sia i prodotti tra i 300 e i 400€, sia quelli tra i 400 e i 500€, perché lì in mezzo secondo me vale un po' la pena stare attenti alla migliore offerta. Vediamo quelli della fascia superiore, Huawei Mate 20 Pro, prodotto eccellente, io ve lo consiglio senza ombra di dubbio perché è il top di gamma di Huawei dell'anno scorso, ma è un prodotto veramente che non vi dà nessun tipo di compromesso, non vi obbliga a nessun compromesso, lato estetico, autonomia, fotocamere, prestazioni, davvero un ottimo smartphone che è in assoluto uno di quelli che mi sono piaciuti di più di sempre. Poi troviamo la new entry Realme X2 Pro, telefono con un rapporto qualità-prezzo pazzesco, 90Hz sul display, una super autonomia, un comparto fotografico che non è il top rispetto magari ai suoi colleghi all'interno della stessa fascia di prezzo, ma si riscatta abbondantemente con le prestazioni per un prodotto che a tutto tondo veramente vi regalerà delle belle soddisfazioni. Altrimenti Huawei P30, lui sicuramente migliore dal punto di vista delle fotocamere rispetto all'X2 Pro e anche uno smartphone che mi è piaciuto perché è abbastanza compatto pur avendo una buona autonomia. Adesso costa decisamente di meno rispetto al prezzo di listino, fateci un pensierino ecco. Qua negli outsider c'è una new entry per questa guida agli acquisti che sembra un po' una roba strana ma è così, OnePlus 7 non era mai entrato in questa guida perché? Perché inizialmente c'era il 6T che costava un po' meno, poi è uscito il 7T, il 7 Pro che era sceso, però una serie di concomitanze non l'avevo mai inserito. Adesso invece si riesce a trovare con delle ottime offerte, per esempio anche durante il Black Friday, ma secondo me anche durante il Cyber Monday si riesce a trovare, magari anche acquistando dalla Cina, ha dei prezzacci. OnePlus 7 è ovviamente un telefono ottimo, no? Con l'hardware top di gamma solito di OnePlus, la solita esperienza d'uso molto piacevole, quindi perché no? Saliamo tra i 500 e i 700, qua troviamo un'altra coppia, OnePlus 7T o OnePlus 7 Pro, vi consiglio di andare a vedere il confronto che c'è sul nostro canale YouTube perché questi due prodotti sono veramente molto simili. O che non confondere il 7 Pro con il 7T Pro che costa decisamente di più. Entrambi sono smartphone fantastici, tra i due io preferisco il OnePlus 7T perché è un pochetto più maneggevole, ha questo schermo a 90Hz davvero molto bello e un comparto fotografico finalmente all'altezza della situazione. Altrimenti un prodotto che si presenta da solo, il Galaxy S10 Plus, top di gamma di Samsung per la prima parte dell'anno, eccellente, uno di quelli meglio riusciti secondo me al brand coreano. In attesa del Samsung Galaxy S11 che arriverà in primavera, lui è ancora un riferimento. Un bel telefono equilibrato, ecco, per chi vuole un top di gamma senza particolari eccellenze e senza particolari difetti per andare sul sicuro, prendetelo. Altrimenti Huawei P30 Pro, telefono che mi è piaciuto molto perché è un top di gamma con un comparto fotografico pazzesco e una super autonomia. Sono i due aspetti che secondo me sono più importanti all'interno di uno smartphone per cui lui è il top di gamma del 2019 che mi ha convinto di più e che mi ero portato anche in vacanza quest'estate. Si riesce a trovare con qualche bella offerta, per esempio durante il Black Friday era a 649€ venduto e speduto da Amazon, ma se comprate fuori da Amazon lo trovate anche a meno. Tenete d'occhio Asus Zenfone 6 perché nella versione base con 64GB di memoria interna, che sono un po' pochini, in realtà è in offerta a 449€, un telefono che difficilmente si riesce a trovare fuori dallo store di Asus. Se comprate nello store la versione più equilibrata che vi consiglia è quella con 128GB di memoria interna. Infine arriviamo all'ultima fascia di prezzo, sopra i 700€, OnePlus 7T Pro, lo smartphone per giocatori, decisamente molto molto bello, con un comparto fotografico che però non regge il confronto con gli altri colleghi all'interno della fascia di prezzo. Anche lui, come quasi tutti, OnePlus si riscatta con prestazioni da urlo, un'esperienza d'uso veramente fantastica grazie anche ai tanti ritocchini che OnePlus ha inserito quest'anno nei suoi top di gamma, come per esempio il feedback della vibrazione veramente molto preciso, oppure la nuova Oxygen OS già aggiornata ad Android 10 con tante funzioni, in più una grafica ancora più curata. Poi troviamo il Google Pixel 4 XL, come non mettere questo prodotto estremamente caro ma veramente piacevole da utilizzare, esperienza Android pura. Un telefono che secondo me è proiettato al futuro perché fa un sacco di cose in autonomia, vedrete che utilizzandolo poi è difficile tornare indietro, perlomeno questo dicono tutti i suoi utenti e un motivo ci sarà, no? E poi Samsung Galaxy Note 10 Plus, il miglior smartphone Android in questo momento per completezza tecnica, per design, prestazioni, veramente un prodotto eccellente a tutto tondo, non ha una grandissima autonomia ma in fondo che importa, con un oggetto del genere avrete sempre la consapevolezza di avere in mano un prodotto quasi lussuoso. E tra gli outsider sulla fascia alta metto anche l'Asus ROG Phone 2, me l'avete chiesto a gran voce, in effetti è uno smartphone che merita, però è particolare, da gaming ha una super batteria, ottime prestazioni ma è anche un mattonazzo e con un design molto audace. Il mio consiglio è quello di cercare una buona offerta, se non lo prendete sul sito di Asus comunque c'è qualcosa in giro magari di importazione e secondo me, insomma, può valer la pena importarlo se riuscite a risparmiare magari 200-300 euro. Rimane tra gli outsider perché a parità di prezzo io prenderei qualcos'altro, no? Per l'utilizzo di tutti i giorni. Comunque, è un prodotto decisamente interessante. Ebbene, dai, direi che anche per questo mese è tutto, questa è la nostra guida agli acquisti, se c'è qualcosa che manca mi dispiace ma non potevo mettere tutto, in descrizione trovate anche la guida scritta con qualche smartphone in più. È davvero tutto, un saluto da Matteo, lasciate un bel like, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!